Ciao ragazzi, oggi parliamo di ROI e ROE, sono due indicatori molto utilizzati nella finanza personale. In realtà questi due indicatori provengono dalla finanza aziendale, cioè sono indicatori di bilancio e sono molto più utili per le aziende rispetto per gli investitori, però possono essere utili anche agli investitori e sono utili alla finanza personale. Comunque le formule tra finanza personale e finanza aziendale differiscono, quindi quello che dirò in questo video ovviamente è solo per la finanza personale. Sono utili questi due indicatori perché? Perché permettono di capire quanto mi rende un investimento, quanto mi rende un'operazione in base al capitale totale utilizzato per quell'operazione oppure quanto mi rende una determinata operazione in base al capitale proprio, cioè il capitale che ho messo di tasca mia. Quindi ROI, in realtà è l'acronimo in italiano ritorno sull'investimento, fa vedere quanto mi rende un investimento in base a tutto il capitale totale utilizzato, quindi il capitale totale utilizzato vuol dire capitale proprio, i soldi messi di tasca mia, più il capitale di terzi, quindi un capitale chiesto in prestito magari a banche a cui devi ridare poi più in là capitale e interessi. Il ROI invece è l'acronimo di ritorno sull'equity, per italiano vuol dire ritorno sul capitale proprio, quindi questa formula non considera il capitale di terzi, considera solo il capitale proprio. Adesso vediamo un esempio, lo facciamo con un caso dell'immobiliare, però va benissimo anche un caso di trading, sia che sia di criptovalute, di azionario, eccetera. E ripeto, questo esempio, ma anche gli indicatori ROI e ROI sono molto utili, oltre a vedere quanto rende l'investimento, a far capire, sono utili a far capire quanto è interessante e utile la leva finanziaria. Adesso lo vediamo. Prendiamo ad esempio il ROI per un'operazione immobiliare. Faccio un'operazione immobiliare, tra tutto l'operazione mi costa 200.000 euro, cioè ci compro la casa, chiedo in prestito i soldi, tengo conto degli interessi, delle spese che ci sono, e tra tutto mi viene a costare l'operazione 200.000 euro, di cui 160 è la parte di capitale di terzi e 40.000 euro è la parte di capitale proprio, cioè 40.000 euro li metto di tasca mia, 160.000 li chiedo in prestito. Quindi l'operazione mi è costata 200.000 euro, rivendo questi immobili a un prezzo più elevato e al netto delle tasse riesco a farci un utile, una plusvalenza di 50.000. Se faccio 50.000 diviso 200.000 per cento, abbiamo un ROI del 25%, che è un ritorno molto alto. Adesso ho fatto un esempio, in realtà solitamente sono ritorno più bassi, comunque questo è un esempio, e se ad esempio il capitale chiesto in prestito fosse zero, cioè io avessi messo 200.000 di tasca mia, il ROI e il ROI si equivarrebbero, cioè il ROI sarebbe 25%, il ROI anche 25%. Però in questo caso ho utilizzato la leva finanziaria, cioè ho chiesto soldi in prestito. Quindi facciamo il caso del ROI, sempre 50.000 che è l'utile netto dell'operazione, fratto il capitale proprio, che era 40.000 e se lo risolvono per cento, viene 125%. Quindi fa vedere che l'utilizzo della leva, della leva finanziaria, fa rendere molto di più il nostro capitale proprio. Infatti tutte le aziende o anche investitori, in realtà l'investitore è più speculazione, gli investitori che utilizzano la leva è più speculazione, però le aziende no. Cioè le aziende, è vero che ci sono indicatori diversi, però anche lì funziona la leva alla stessa maniera, cioè se riesco a far rendere il capitale chiesto in prestito più del tasso, cioè più del costo del debito, riesco a ripagare bene questo debito e riesco a far salire il ROI. E questo è interessantissimo più che altro per l'azienda, però anche per gli investitori può essere utile. può essere utile. Fin quando conviene indebitarsi? Conviene indebitarsi in realtà quando il ROI è maggiore del ROD. Il ROD è il costo del denaro, quindi se io riesco a fare, mettiamo che riesco a fare sempre operazioni al 25% e il costo del denaro è il 3%, a me conviene indebitarmi perché riesco a creare valore, riesco a creare un ritorno più elevato del costo del debito. E questo qua mi fa aumentare il mio ROI. Ovvio che non bisogna indebitarsi alla morte perché poi comporta instabilità sia dell'azienda che anche dell'investitore nella finanza personale e in più bisogna avere una grande capacità previsionale. Perché? Perché è vero che tu puoi prendere in prestito il capitale di terzi a un tasso fisso, però esiste anche il variabile. Comunque facciamo caso che questo il ROD può essere fisso, il ROI in realtà può variare. Cioè in un anno si fa il 25%, l'anno dopo magari non ti va così bene e quindi potresti andare sotto addirittura al ROD. Quindi occhio a indebitarsi, però indebitarsi per fare attivi può convenire perché ti aumenta il ROI e quindi è molto utile. Indebitarsi invece per comprare televisori o macchinoni o passivi non conviene assolutamente. Il debito viene utilizzato da tutti gli investitori e dalle aziende per creare attivi, per creare cash flow. Anch'io farò un'operazione immobiliare, però in realtà dalla mia azienda, questa azienda ha già un ROI del 20%, circa, 19,5% circa e chiederemo un capitale di terzi. Farò vedere l'operazione anche in questo canale YouTube e se vuoi iscriviti così non ti perdi l'operazione che però durerà un po' perché è un'operazione immobiliare anche e tramite capitale di terzi, tramite leva faremo aumentare il ROI. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale se non vuoi perderti le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!